Udinese 1, Roma 2. Questo è il verdetto finale di oggi pomeriggio, 13 marzo dell'anno di Grazia 2016 allo Stadio Friulano. Udinese 1, Roma 2. È l'ottava vittoria consecutiva per la squadra giallorossa allenata da Luciano Spalletti. Udinese 1, Roma 2. Udinese 1, Roma 2. Udinese 1, Roma 2. Udinese 1, Roma 2. È una Roma, signori, che la sa raccontare e sa impostare bene la partita qualsiasi sia il suo avversario. 13 marzo dell'anno di Grazia 2016, ben connessi da Roberto De Angelis. Allora partono bene i giallorossi, non hanno timore dell'Udinese, ci mancava anche il contrario. Non ha lasciato strascichi negativi la partita contro il Real Madrid. E poi c'è una bella sorpresa, perché uno dei due gol l'ha segnato proprio Edwin Zeko. Esattamente nel primo tempo, se non vado errato al quattordicesimo. Esattamente al quattordicesimo del primo tempo Zeko è andato in gol. C'è stato un aggancio di Perrotte che ha servito subito, sarà l'Egiziano, non ci ha pensato due volte. Ha servito subito il bomber bosniaco che in spaccata ha trovato un vantaggio davvero inesperato per lui stesso. Forse si sarà sbloccato, non lo sappiamo, però ha dimostrato segnali di ripresa. Stasera a molti microfoni sportivi e alla Gazzetta.it Spalletti ha dichiarato che lo ha fatto giocare di proposito, altrimenti il giocatore sarebbe stato perso per sempre. Però in questo momento Zeko è felice, forse piano piano si sta sbloccando e noi stiamo recuperando un centravanti. Questo è il bello del calcio. Ieri parlavamo con Vittorio Bellucci e Fabrizio Busnengo della crisi di Zeko, noi non l'avremmo fatto giocare. Ha avuto ragione per il momento Spalletti per cui dopo il primo tempo Udinese 0-Roma 1 con un gol meraviglioso di Edwin Zeko. Il secondo tempo, chiaramente l'Udinese è partita forte tentando di pareggiare le sorti dell'incontro. Zapata ha preso un falo, l'azione di Zapata ha ridato fiducia ai frioliani, ma poi piano piano la Roma ha ripreso le redini del gioco. E al settantaquattresimo c'è stata l'apoteosi, perché Pjanic, appena entrato a posto di Al-Sharawi, ha inventato un passaggio vedendo con la coda dell'occhio l'inserimento in aria di Alessandro Florenzi, che ha controllato in maniera, oserei dire, maestosa, faraonica. Il faraone, anzi no, è il secondo faraone, perché il faraone è Al-Sharawi, Florenzi. Un altro faraone si sta avvicinando alla corte di Spalletti, il nostro faraone giallorosso, mentre l'altro è il faraone per eccellenza che è Al-Sharawi. Allora con un tocco faraonico ha schizzato la palla in rete. Nessuno lo ha visto, nessuno lo ha saputo contrastare, quindi grazie ad Alessandro Florenzi e a questa sua perla, la Roma è andata sullo 0 a 2. Poteva finire 0 a 2 e invece alla fine la solita piccola disattenzione e Bruno Fernandes, che oltretutto ha svolto un'ottima partita, ha segnato il gol della bandiera naturalmente per l'Udinese. Grazie però all'occasione che si è fatto capitare Zapata, che lo ripeto, precedentemente aveva colpito il palo a Cesni battuto. Gol della bandiera, Fernandes e Zapata meriterebbero una squadra migliore. E poi parleremo anche dell'Udinese, però un pizzico, non dico di commozione, però di intenerimento, quando nel frattempo è stata data un'altra chance a Strottman per pochi minuti, però Strottman comincia a giocare a pallone e a rivedere il pallone. Questo è molto, molto positivo. Una Roma quindi concreta, una Roma, oserei dire, in qualche tratto della partita anche superlativa, che non ha risentito minimamente della sconfitta in Coppa dei Campioni contro il Real Madrid. È a 59 punti, ha consolidato il terzo posto e sabato sera prossimo ci sarà l'Inter. Certo, se l'Inter vista ieri sera contro il Bologno non ci dovrebbero essere problemi, però nonostante che mancheranno Icardi e Palasio, Palasio per forza perché è squalificato, Icardi salvo miracoli, ma ci dicono in questo momento che non sarà della partita perché è infortunato, è un Inter che non fa paura, ma è un Inter rognosa perché, rognosa in senso calcistico chiaramente, perché non giocando a calcio impedisce agli altri di effettuare il gioco del calcio. Per cui, se non starai molto attento a Roma, se non sarai molto guardinga, l'Inter ha dei volponi che presi singolarmente ti possono fare il contropiede dell'azione e magari farti saltare tutti i progetti e tutti i piani. Noi invece vorremmo, fin da stasera, 13 marzo 2016, la nona vittoria per la nostra Roma. E a questo punto vediamo un attimo quelle che sono state le pagelle per i giocatori della Roma con qualche commento da parte nostra. La Roma si ama chiaramente, la maglia è una fede indipendentemente dai presidenti, dalla società e dai giocatori. Questo deve essere chiaro a tutti. Allora vediamo un po' Scesni, per alcuni giornali ha preso 6, per noi merita anche un 6,5. Su Florenzi siamo tutti d'accordo, 7 anche se io personalmente gli darei un bel 7,5. Zucanovic 6, ma per me 6,5 come voto di incoraggiamento e di sprone perché questo giocatore dalla partita di Madrid si sta confermando un pilastro della difesa. E Manolas, altro difensore centrale, ne guadagna veramente tanto. 6,5 anche a Manolas. 6 a Digne, Digne che naturalmente deve imparare a coprire di più, però piano piano le lezioni di Spalletti stanno dando i frutti sperati. Che età 5,5? Peccato perché poteva fare molto di più, ma considerata l'età e considerate anche le sue condizioni fisiche, che non so se integro al 100%, fisicamente apposto al 100%, ha fatto tutto quello che poteva che era nella sua facoltà a fare. Nainggolan 6, molto bravo, molto valido, soprattutto si è rivisto un peso a centrocampo, senza Nainggolan si spegne la luce. Salah 6,5, Strottman è entrato al novantesimo, non si può valutare, però T6,5 è la Sharawi, il faraone ufficiale, non quello romano perché quello è Alessandro Florenzi. Da adesso in poi i faraoni secondo noi saranno due, è il Sharawi che è il faraone ufficiale, perché è sempre stato chiamato così, e il faraone giallorosso che è Alessandro Florenzi, perché quello è stato il secondo gol, ragazzi, un tocco veramente da faraone. Al settantesimo è entrato Pianic, a cui diamo un bel 6,6,5 anche per via di quel passaggio che ha permesso a Florenzi di raddoppiare. E Zeko, che era partito, qualcuno aveva dato la sufficienza, noi sentiamo di dargli un 7,7 più anche di incoraggiamento, perché è giusto che Zeko torni a giocare come sa giocare. Secondo Spalletti i ragazzi hanno fatto una partita splendida, soprattutto perché è arrivata dopo l'eliminazione dalla Champions League ad opera del Real Madrid, che poteva darci una ammazzata psicologica. La psicologia, dice Spalletti, è un aspetto fondamentale nel calcio di oggi, siamo sicuramente dei prescelti e dobbiamo renderci conto di quello che è il nostro lavoro. Dobbiamo analizzare tutte le situazioni in profondità, dobbiamo mettere da testa dentro a quello che facciamo, capire che facciamo qualcosa che è più bello di molte altre. Oggi sono in pace con i miei giochiatori, finalmente non li criticherò. Meno male Luciano, grazie. Per uno Spalletti euforico, un Colantuono veramente mortificato e oserei dire amareggiato. Colantuoni ha dichiarato alla RAI, io sono sereno, la società udinese è giusto che prenda tempo, è giusto che prenda le sue decisioni opportune. Noi, dal canto nostro, nostro modesto commento, Colantuono è un ottimo allenatore, ma non è l'uomo giusto per l'udinese, assolutissimamente no. Ci vuole un altro tipo di allenatore, forse che comprenda meglio la realtà della città di Udine. C'era Guidolin, ma Guidolin chiaramente oggi allena lo Sguonzi in Inghilterra, che oltretutto non sta andando bene e addirittura lo vogliono già esonerare Guidolin, ma se la squadra fosse stata affidata a Guidolin anche quest'anno, l'udinese non sarebbe in bilico tra una zona tranquilla e l'orlo della retrocessione, anche perché oggi il Carpi battendo il Frosinone si è avvicinato molto. Lodi dell'udinese ha detto che non voglio nemmeno pensare alla retrocessione. Colantuono ha detto che l'udinese non ha sfigurato affatto davanti alla Roma, ha avuto le occasioni per pareggiare il palo di Zapata, ne è testimone, e con un po' più di fortuna forse il pareggio sarebbe stato trovato e preso al volo. Ci dispiace di sentire da Colantuono, ma la partita ha preso subito la giusta direzione, quella giallorossa, perché tra la squadra giallorossa di oggi, messa molto bene in campo, che gioca un calcio moderno, gioca in spazi molto corti, triangolazioni di prima, l'udinese ha annaspato, l'udinese ha arrancato, per cui oggi veramente scusa Colantuono, ma non puoi dire assolutamente che l'udinese con maggiore fortuna poteva riagganciare il risultato, poteva veramente ritrovare magari un punto molto molto prezioso. Adesso la classifica si fa critica, mentre la Roma saldamente in testa a 59 punti, visto che la Fiorentina è stata fermata in casa dal Verona, che sembrerebbe ormai essere retrocesso, ma darà del filo da torcere a tutti. 59 punti, terzo posto, e sabato sera ci sarà l'Inter, mi raccomando Roma, non deluderci, non devi deluderci, ripeto, l'Inter se è questa si può imbrigliare molto facilmente, ma prima di cantare vittoria la partita dovrà essere giocata. Per il vostro relax c'è Vigor Sporting Center, per la vostra attività sportiva c'è Vigor Sporting Center, per la vostra area di benessere c'è Vigor Sporting Center, che si trova in via Grotta di Gregna numero 100 a Roma, nell'area tra via Grotta di Gregna e via Filippo Fiorentini, tra i quartieri di Collianiene e Verde Rocca. Il telefono è lo 06 40 60 509. Salutiamo Walter e Corrado, Valkor abbigliamento in via di Torzapienza, 135 abc e numeri limitrofi, fashion store, classic store e outlet store. Da Valkor abbigliamento solo altissima qualità dei materiali esposti e venduti, dal 1948. 148 per uomo, donna e bambino, per uomo e donna calzature, borse, abbigliamento e accessori e per i bambini una vastissima gamma di calzature. Sono aperti anche la domenica, Walter Corrado, Valkor abbigliamento, naturalmente, per maggiori informazioni 22 83 182. Per quanto ci riguarda è tutto, è stata una Roma molto concreta, è stata una Roma che ha badato a far sua la partita, così che ci piace la Roma, con questa mentalità concreta, magari leggermente meno spumeggiante rispetto ad altre partite, ma bisogna andare avanti per consolidare questo terzo posto. La fortuna è stata nostra amica perché la Fiorentina in casa è stata fermata dal Verona sul risultato di 1-1. Non ci facciamo illusioni, naturalmente, per il primo e il secondo posto, perché la Juventus ha vinto ieri sera di misura 1-0 contro il Sassuolo, mentre stiamo andando in onda a Palermo, il Napoli sta vincendo per 1-0. Per cui noi dobbiamo pensare al nostro terzo posto. Ripeto, sabato prossimo sera ci sarà l'Inter, non sottovalutiamo l'Inter, mi raccomando, perché l'Inter non ha una costruzione di gioco, sono 11 uomini che si mettono insieme a passarsi il pallone, però siccome lo sbarramento lo sanno fare molto bene e soprattutto i di rimessa ci sanno fare, bisognerà chiudere tempestivamente tutte le fonti del non gioco interista, non del gioco interista, del non gioco interista, perché così facendo il loro non gioco diventerà più arido, diventerà più sterile e la Roma dovrà cominciare a segnare il primo gol e poi a segnare il secondo per stare più tranquilli, perché l'Inter ci ha abituato a situazioni catastrofiche, ma anche a recuperare situazioni che sembravano perse. Quindi mi raccomando, forza Roma, sei la nostra magica Roma e come dico io, la Roma è una fede indipendentemente dai giocatori, dal presidente. La Roma, quello sì, è il nostro unico grande amore. Ci lasciamo con il migliore Forza Roma da Ieroma e tutto per quanto riguarda questa Udinese Roma, il post Udinese Roma. Roberto De Angelis vi ringrazia dell'ascolto, buona continuazione di programmazione e come dico io, dal più giovane al più vecchio, tutti orecchio all'apparecchio. Grazie ancora. Grazie. 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 Grazie.